Uno sguardo al cronometro da parte di Mattia Andruccioli, parte San Marino-Estonia. Paone si era mossa più sulla sua verticale, Terenzi era rimasta a sinistra, la palla si è persa tra i guantoni di Ivanona. Attenzione al pallone riconquistato da Terenzi, la suolata, Terenzi, 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 Polo! Ancora Terenzi può riprovarci, però non controlla benissimo. Terenzi fischia l'arbitro, parte Terenzi, la palla che si abbassa, resta lì Gliasici, Gliasici! Prendere lo slancio, palla al centro per il colpo di testa liberare da parte di Paolini, poi ha provato a coordinarsi l'Aid-Metz, il tiro! E la parata da parte di Ariadne. Rank perde il pallone, Zanotti, Penserini, con l'esterno per Paone, spazio per la numero 9, adesso affrontata. Paone al cross, sul primo pallo c'è la presa, però servendo Vali, occhione imbucata per Mazzon. Mazzon si presenta davanti a Forcellini, Mazzon la paratona di Forcellini che abbassa la sala cinesca. La palla che spiove in aria, esce il portiere, la palla che resta lì! E poi Terenzi anticipata. Benedettini va in e porta con un tiro potente che si sacca! Gollasso di Anna Benedettini! Benedettini, che è la seconda minuta della difesa, volta in Valdezio San Marino. Ci aveva provato più volte nel primo tempo, non aveva trovato la misura giusta, ma stavolta l'ha trovata. Tamagnini va all'indietro, attenzione perché si crea una grande opportunità per Varsi, Varsi in aria, Varsi, Varsi! E' altra paratona di Forcellini! Va Uziukina. La palla a cercare Iuzaninova e poi Penserini, il tiro di Mazzon, alto, pericolo qui. Ballone nel mezzo, il colpo di testa e la traversa! La traversa dell'Estonia! Colpita da... La battuta di Iuzaninova in aria di rigore con la palla che arriva sul secondo palo. L'uscita di Forcellini a mettere ordine. Attenzione anche al movimento davanti a Forcellini. La palla sul secondo palo, il colpo di testa da parte di Luic e la parata di Forcellini. A duello e poi arriva Terenzi. Mazzon spara in avanti, c'è Carli, c'è anche Paolini. Paolini che tocca il pallone, attenzione alla presenza di Varsi, 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 Varsi! Arriva, credo, l'autogol di Carli. Sì, dovrebbe essere autogol di Carli. Al primo minuto di recupero, il pareggio dell'Estonia. ha fatto il massimo Cristina Carli per cercare di disturbare Varsi. È andata in... Forcellini al rilancio. Arriva il fischio, finisce questa partita, finisce uno a uno. Il fischio dell'arbitro, Benedettini, il tiro, il gol! Segna il primo penalty, Anna Benedettini. Il fischio, il tiro, gol! Palla sotto l'incrocio dei pali, un signor rigore questo. Parte Iazzici, ha toccato Ivanona ma la palla è entrata! Parte Iuzzaninova, anche lei la mette a fil di palo, anche qui aveva... Va, Terenzi, soluzione bassa, ma gol! Parte Luike, sotto la traversa, anche questo un bel rigore. Il fischio. Paone! Rete anche per lei. Il fischio. Va, Varsi, spiazza. Forcellini, 4 a 4. Forcellini, potente! Rete anche per lei. Ha visto... Senza rincorsa, traversa! E vince San Marino! Vince San Marino! Che adesso va ad approcciare il suo portiere, Arianna Forcellini. Grazie! Grazie!